A Ponte Cagnano-Faiano i carabinieri hanno tratto in arresto il perciudicato Salvatore Gallo, 46 anni del posto, dovendo scontare la pena definitiva di 10 mesi di reclusione e 3.000 euro in multa per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Reato commesso a Ponte Cagnano-Faiano il 7 febbraio 2013. Quella sera a Ponte Cagnano-Faiano i carabinieri della compagnia di Battipaglia bloccarono l'uomo e la moglie a bordo del loro Fiat Punto, rinvenendo occultati nelle parti intime della donna 18 cilindretti in plastica, risultati successivamente a contenere 16 grammi di eroina. Il 46 anni scontrerà la pena agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.